Anche la Spezia festeggerà i cento anni di uno dei tanghi più famosi della storia, la Comparsita. In che modo? Con uno spettacolo al Teatro Civico martedì 18 aprile alle ore 21. Questo tango, che è il tango più famoso diciamo così del mondo, compie cento anni e in questa occasione abbiamo pensato di mettere su uno spettacolo che racconta un po' la storia di questo tango, come poi anche di altri tanghi, con musica, danza e teatro. La musica è affidata a un gruppo musicale Iperion, Ensemble, prevalentemente formato da Spezzini, ma che è ormai famoso a livello nazionale e internazionale in tutte le occasioni in cui ci sono i festival di tango. Quindi è sicuramente una delle realtà musicali Spezzine più significative. Poi accanto alla musica c'è la danza, perché è chiaro che il tango è un settore musicale in cui la danza la fa da padrone e avremo ben quattro coppie di ballerini sul palcoscenico del Teatro Civico. Ma non ci accontentiamo solo di questi due aspetti musicali e della danza, ma questa volta abbiamo pensato anche al racconto di questi cento anni della comparsita attraverso delle parole recitate da Roberto Alinghieri e Andrea Nicolini. Ci sarà appunto la storia di questo tango, ma anche un intervento sul gioco del pallone, cioè il football, che in Uruguay, perché bisogna ricordare che la comparsita è nata a Montevideo cento anni fa, il gioco del pallone è sempre stata una cosa molto importante. E dal gioco del pallone all'Uruguay si fa presto ad arrivare al picco. Voi avete pensato di invitare qualcuno? Ebbè sì, a questo punto abbiamo pensato che a Nuno Spezia giocano due importanti giocatori uruguayani, Baez e Granosce, il bomber, insomma quello che fa i gol più significativi della nostra Spezia. E noi abbiamo invitato questi due personaggi che hanno espresso la volontà di venire perché sarebbero molto contenti in quanto voglio ricordare che questa comparsita è proprio un canto popolare uruguayano. E noi ci auguriamo che possano venire compatibilmente, naturalmente, con quelli che sono le esigenze e i problemi che nascono dai giocatori che operano in una squadra di Serie B. Però ecco, questa loro, diciamo, adesione ci ha fatto molto piacere e noi contiamo che loro possano venire.